È Bianca Guaccero l'ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di Donne al Bivio che andrà in onda sabato 6 aprile su Rai 2 alle 14. È Bianca Guaccero l'ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di Donne al Bivio che andrà in onda sabato 6 aprile su Rai 2 alle 14. L'attrice a conduttrice si racconta nel suo privato, parla del suo matrimonio finito, dei suoi genitori e, per la prima volta, anche del gossip su un suo presunto flirt con Stefano De Ma. L'attrice a conduttrice si racconta nel suo privato, parla del suo matrimonio finito, dei suoi genitori e, tra i due colleghi, però, non c'è mai stato nulla. Come lei stessa precisa nel corso del libro, la conduttrice e il regista Dario Acocella, padre della figlia Alice che oggi ha 10 anni, sono stati sposati dal 2013 al 2017. La conduttrice e il regista da riguardo ai motivi sulla fine del suo matrimonio, eravamo molto diversi, confida, io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profonda, ho imparato a dire a mio padre quanto lo amo quando lui era in terapia intensiva. Gli stavo vicina e ho temuto, ora va meglio, ma la priorità della mia vita sono mia figlia e la famiglia ammette, infine, i progetti televisivi futuri, guaccero, reduce dal successo di Tec e Tec e Top Ten nella seconda serata del sabato di Rai 1, oggi sta vagliando varie proposte per la nuova Infine i suurde